musica Stefani una vetrina di un negozio un allestimento sta ballando Stefani, balla bene movimento pelvico ecco vai vai bravo movimento pelvico la pallata pelvica stai ballando, hai capito? stai sei in vetrina, non vorrei farti notare ma movimento pelvico, ecco il movimento pelvico mamma, guarda dalla vetrina il figlio oh, adesso stai andiamo vabbè, basta, basta ci hai fatto già un autostom vediamo, ti metto in vendita in vetrina 3 euro, io sono cattacchissimo 3 euro andiamo quanti baci mi stai dando quanti baci quanti baci come si danno i baci che baci, forte forte fortissimo è ruffiano proprio è forte cosa si fa per un po' di latte cosa non si fa per un po' di latte come fai gattina di mamma? non messi cocco la gattina di mamma? guattino, fai un guano a me miau miau dire qualcosa? stefano appena schiaffeggiato la mamma hai detto di stare tanto vicino e schiaffeggia stefano andiamo a prendere un caffè stefano da declaton che zombetta dentro le molle sembra un canguretto un canguro? boing 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 vengo anch'io? non posso, è per i bambini sarebbe venuto volentieri sarebbe bello mettere uno di questi in salone così si mette lui potrebbe stare qua 24 ore con le molle quindi immaginate che tranquillità chiuderlo dentro giornata intera questo per la bicicletta di stefan poi abbiamo comprato anche questo grazie vai tu cadi, cadi eh mi ha comprato anche questo personale questo per la ruota di stefan e sto gonfiatore va rompi i balli, andiamo a presto